Buonasera a tutti e a tutti. Ho pensato di leggere due passaggi della relazione che Giuseppe Di Vittorio fece al secondo congresso della CGL nell'ottobre del 49 a Genova e nel quale Di Vittorio lanciava a tutto il Paese la proposta del piano del lavoro. Era un'Italia che usciva dalla guerra piena di lutti, di miserie, di retratezze, di povertà. Si trattava di indicare una via d'uscita al Paese che desse lavoro, occupazione e maggiore dignità a tutti. Ho scelto queste due parti perché pensando alla crisi di oggi, alle difficoltà di uscirne a capo, mi sembra che questo messaggio contenga innanzitutto una grande lezione di passione civile, di etica pubblica e di moralità della quale il Paese ha ancora tanto bisogno anche oggi. Cari compagni, avviandomi alla conclusione mi propongo di spiegare nel modo più chiaro possibile la via che la CGL intende indicare al Paese per uscire dalla situazione attuale. Le grandi linee del piano economico e costruttivo che noi proponiamo al popolo italiano. Si parte da una premessa. In Italia abbiamo circa due milioni di disoccupati, un altro milione circa di lavoratori che lavorano a orario ridotto. Più di un milione di braccianti che lavorano solo saltuariamente. Milioni di famiglie sono nella fame. D'altra parte abbiamo problemi vitali della nazione che potrebbero essere risolti occupando la mano d'opera. Quali sono essi? Il problema dell'elettricità, ad esempio. Noi oggi difettiamo di elettricità, a tal punto che siamo costretti alla sospensione dell'energia durante diversi giorni della settimana. Vi è poi un altro problema. L'Italia si dice è un Paese superpopolato, ma lo è per colpa della struttura economica, perché grazie a questa struttura non si può sviluppare l'industria nell'agricoltura. Abbiamo poche terre rispetto alla quantità della popolazione. Allora com'è possibile che ci siano terre non bonificate, terre incolte o mal coltivate? Ci vuole un piano di bonifica, di irrigazione, di trasformazioni fondiarie per introdurre nuove culture di carattere industriali che possono alimentare altre industrie nel mezzogiorno e nelle isole. Un altro grande problema è quello delle case. Abbiamo il 50% della popolazione italiana che vive in condizioni anormali, con più famiglie nello stesso appartamento e molte volte nello stesso vano e qualche volta nella stessa grotta e nella stessa baracca. Abbiamo bisogno di scuole, perché abbiamo una superpopolazione scolastica e decine di migliaia di maestri disoccupati, mentre vi è da condurre a fondo la lotta contro l'analfabetismo. Abbiamo bisogno di ospedali, abbiamo urgenti necessità igieniche e sanitarie per tante parti del popolo. Colletteralmente con questo c'è un altro problema. Abbiamo in Italia a vergogna delle classi dirigenti, di quelle classi che dirigono l'Italia dalla sua unità sino ad oggi, che cambiano nome ma sono sempre le stesse. A vergogna di questi ceti ciechi ed egoisti abbiamo migliaia di comuni che non hanno acqua, che non hanno elettricità, che non hanno fognature, che non hanno scuole, che non hanno ambulatori. Abbiamo bisogno di fare questi lavori, abbiamo una struttura economica che impedisce di realizzare perché manchiamo di investimenti di capitali. Ebbene, signori, noi per risolvere questi problemi angosciosi, questi problemi che condizionano la vita e il più piccolo passo di progresso dell'Italia, non diciamo che vogliamo attendere prima la realizzazione delle riforme sociali. Vogliamo portare il contributo alla soluzione immediata e urgente di questi problemi e giungeremo ad aprire il cerchio della struttura attuale solamente nella misura che è indispensabile per realizzare questo piano. Dare elettricità, dare una casa, dare un pane, dare un lavoro, una scuola, un ospedale, una civiltà a tutto il popolo italiano. Compagni, io sento che è necessario dichiarare in questo congresso che la classe operaia italiana, i lavoratori tutti, salariati e stipendiati, i quali, come abbiamo visto nel corso dell'esposizione, vivono in condizioni terribili, al di sotto dei bisogni minimi indispensabili alla vita quotidiana. I lavoratori che non sono e non vogliono essere più ai margini della vita nazionale, si considerano le forze fondamentali della nazione. Questi lavoratori, che hanno dato prova di essere maturi per risolvere i grandi problemi nazionali che altre classi non hanno saputo risolvere fino ad oggi, dimostrano che sono capaci di assumersi altri sacrifici e perciò hanno diritto di essere alla direzione della società nazionale. Ebbene, nella misura in cui il nostro piano, così come è delineato e come sarà perfezionato nella conferenza dei tecnici e dei licenziati che indiremo prossimamente e avrà il contributo degli altri, credo che tutto il proletariato italiano, i lavoratori salariati e stipendiati di tutte le categorie, malgrado le loro condizioni di miseria, saranno felici di fare un nuovo sacrificio. In queste parole di Di Vittorio c'è tutto. C'è il progetto per far uscire il Paese dalla crisi di allora. C'è il bisogno di dare lavoro e occupazione a tanti, di superare le retratezze e le divisioni storiche. C'è bisogno di dare a ogni cittadino i diritti pubblici fondamentali, dalla scuola agli ospedali. E c'è insieme quel senso di responsabilità che alla classe dei lavoratori italiani non è mai venuta meno, né negli anni 50 né dopo, a condizione che si lavori tutti per superare la crisi ed affermare la dignità dell'uomo e della sua diritti. Grazie. 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 Grazie.